Buongiorno, come sapete nelle mie riminescenze da brava marchettara sono sempre appassionata di quello che succede nelle realtà aziendali. Infatti oggi, che appunto siamo al 14 giugno, ci sono novità circa le società di Chiara Ferragni. Infatti, proprio queste società sembra che stiano cambiando completamente a setto. Come? Innanzitutto il suo storico braccio destro, Fabio Maria D'Amato, che è anche protagonista di tantissimi gossip, soprattutto messi anche in atto grazie all'ex marito Fedez, lascia Fenice e TBS Crew. Le due aziende comunicano infatti in una nota che dal 16 giugno il manager cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. E voglio proprio vedere, Poraccio, cioè Poraccio, voglio proprio vedere dove andrà a finire. Una decisione che parte di un percorso di rinnovamento aziendale. Queste sono state le parole utilizzate per giustificare la sua uscita. D'Amato è stato parte del gruppo di Ferragni dal 2017. Anche se di recente gli erano già stati tolti poteri gestionali in Sisterhood, che è praticamente la holding personale dell'influencer, affidati ora alla madre Marina Di Guardo. Il rapporto con D'Amato dà indiscrezioni, ma anche no, si sarebbe incrinato a seguito proprio del caso Balocco e delle altre vicende che hanno coinvolto appunto le attività di Chiara Ferragni. Nelle cui indagini la magistratura risulta proprio coinvolto anche lo stesso D'Amato. Sisterhood controlla il 32,5% di Fenice, che è la licenziataria dei marchi Chiara Ferragni, che proprio nel 2022 aveva realizzato un fatturato, che è appunto l'ultimo dato disponibile, aveva realizzato un fatturato pari a 15,6 milioni e un utile di 3,4 milioni. TBS Crew è invece la talent agency che gestisce anche blog ed e-commerce e ha un ricavato pari a 14,5 milioni di euro e un utile pari a 5,1 milioni. Ovviamente, come si era già intuito, stanno cercando di rilanciare e di rinnovare in questo percorso proprio le aziende della galassia Ferragni. E per conseguire questo obiettivo hanno deciso di passare attraverso l'ingresso di alcuni manager, chiamati proprio a risollevare le sorti commerciali. E fortemente poi ridimensionate dalle vicissitudini giudiziarie dell'imprenditrice. Come sappiamo, era stato anche riportato appunto che i negozi erano vuoti, grandissimi sconti, i rivenditori non volevano più i prodotti della Ferragni e quindi è palese che l'azienda e comunque anche il gruppo sia estremamente in difficoltà economiche. Secondo poi il messaggero, sarebbe in atto anche una vera e propria revisione manageriale e un'immissione di capitale fresco proprio che sarebbe pari a circa 5-6 milioni di euro proprio con lo scopo di riequilibrare i conti della Fenice SRL. Alchimia poi è il gruppo che fa capo a Paolo Barletta ed è proprio lui il primo azionista anche di Fenice SRL con il 40%. Ha distaccato nella società Lorenzo Castelli un suo manager con competenze consulenziali e commerciali che agirà probabilmente proprio come una sorta di commissario per rilanciare il gruppo. In Fenice poi dovrebbe anche rientrare Alessandro Marina che era in azienda fino a 5 anni fa con un ruolo ancora da formalizzare ma che probabilmente dovrebbe corrispondere al CFO quindi Chief Operating Officer. Queste sono le ultime novità per quanto riguarda le aziende di Chiara Ferragni non tocco tutta la parte gossipara dei Ferragni ma mi interessava appunto focalizzare l'attenzione proprio sul destino delle sue aziende. Se vi è piaciuto questo video vi pregherei di mettere un like e di cliccare anche per iscrivervi al mio canale per sostenermi e se vi è piaciuto questo video oltre che mettere like scrivetemelo anche sui commenti per sapere insomma se vi è piaciuto e se vi possono interessare altri video di questa tipologia. A presto!